Franco Fenoglio, un bilancio su questa quattro giorni di Scania al Salone? Molto positivo, voglio ringraziare l'amministratore delegato Curci di Fiera Milano e Garri, patroni della Fiera e la Barbara Prati che hanno fatto prima il lavoro, hanno lavorato tantissimo per riportare il transporte ad un altissimo livello. Il primo giorno so che ci sono stati il 75% in più di presenze, anche ieri il doppio delle presenze rispetto agli altri anni, noi siamo molto soddisfatti, noi come Scania abbiamo presentato tutta la nostra gamma sulla sostenibilità, abbiamo fatto degli incontri sull'ecosistema e spero che questo si potrà servire nel futuro a mettere attorno a un tavolo tutti gli stakeholders del trasporto per lavorare insieme per un paese più pulito, più tranquillo, più sereno con dei trasportatori che possono competere in Europa. Grazie Presidente e grazie a Scania per questo quattro giorni di eventi e emozioni che ci ha regalato a Transportec Logitech.